Ciao a tutti, sono Filippo, insieme a Pablo realizzo un programma d'arte che si chiama UnArt su Radio Onda Novara va in diretta ogni lunedì mattina alle ore 11 e in replica il martedì sera alle ore 21 adesso data il periodo di emergenza sanitaria, siamo ognuno nelle nostre case e abbiamo deciso di pubblicare online l'archivio del materiale che io ho prodotto nella mia rubrica in attesa di cominciare a fare delle puntate web del programma che sono più una sorta di chiacchierata fra me e lui in attesa di ricominciare quando sarà consentito il programma vero e proprio in radio e in tv nell'ottava puntata di UnArt che poi fu l'ultima prima delle vacanze parlammo di luoghi da visitare interessanti vicino appunto a Novara iniziamento dovuto alla città e alla radio che ci ospita perché io e Pablo abbiamo sempre avuto nella radio una grandissima passione qualora voleste contattarci potete farla alla nostra mail onart chiocciolaradionda.it ai miei account youtube e twitter Filippo Biagioli quindi luoghi in... quindi andiamo a dare uno sguardo ai luoghi di interesse culturale a Novara o nelle sue immediate vicinanze prima di tutto andiamo a parlare di Villa Caccia che viene realizzata tra il 1842 e il 1848 da un'idea dei conti caccia di Romentino che desideravano un'importante residenza di campagna il progetto e la costruzione viene affidato all'architetto Alessandro Antonelli e viene deciso di far sorgere sul monte Cucco che sovrasta Romagnano Sesia in provincia di Novara durante la sua realizzazione il naturalista Giuseppe Franco Baruffi che era anche uno scrittore la visitò e ne trascrisse la descrizione nei lavori della sua opera per le grinazioni autunnali e opuscoli che poi uscì nel 1842 i conti caccia la ebbero in proprietà fino al 1950 dopodiché negli anni 60 divenne una scuola e infine oggi è sede del museo storico etnografico della bassa Valsesia altro luogo interessante nelle vicinanze di Novara è il Sacro Monte di Orta che nello specifico nella penisola di Orta San Giulio ospita il Sacro Monte di Orta questo monte sacro è interamente dedicato alla vita e al miracolo di San Francesco e ne vengono raffigurati nelle pitture delle venti cappelle presenti fu realizzato e costruito in un arco di tempo molto ampio tra il 1590 e il 1788 padre Cleto di Castelletto di Cino ne progettò l'impianto e secondo alcuni documenti le cappelle in origine dovevano essere 33 e invece in altre 36 quindi rimane un po' di mistero potremmo dire sul reale progetto iniziale dell'opera adesso però lavorarono importanti artisti dell'epoca come gli scultori Dionigi Bussola Giovanni Del Rico Cristoforo Prestinari i pittori Giovanni Battista e Giovanni Mauro Pier Francesco Mazzucchelli Antonio Maria Crespi e quasi alla fine dell'edificazione vi lavorarono anche i pittori Stefano Maria Legnani Federico Bianchi e lo scultore Caro Beretta l'ultimo luogo che ci preme ricordare sorge a circa 600 metri di altitudine sul monte Mesma provincia di Novara e ospita un convento francescano una chiesa a lui dedicata e una riserva naturale per la sua costruzione dobbiamo ringraziare i fratelli Obiscini di Ameno e il vescovo che nel 1619 consentì anche se i cappuccini del convento di Orta ne contrastarono la realizzazione ritenendolo inutile ma solo grazie all'intervento della Sacra Congregazione Romana i lavori potessero continuare al suo guardiano Francesco Strola invece si deve la lastrificazione della strada che porta al convento che fino a quel momento era molto dissestata e fu proprio sua occupazione e suo interesse che si riuscì a crearla e a restaurarla poi nel tempo e benché nei secoli il complesso abbia avuto dei contrasti di varia natura ad oggi comprende la chiesa e due chiostri barocchi un crucifisso dello scultore lentignani l'antico pozzo la grande stufa risalente al 1727 e il rifettorio dei frati e questi erano i luoghi di cui parlarmo nella puntata numero 8 di OnArt nel frattempo in attesa della prossima puntata archivio online vi ricordo che qualora voleste contattarci potete farlo alla mail onart chiocciola radioonda.it o tramite youtube e twitter all'account Filippo Raggioli vi ringrazio a presto a presto a presto o tramite chiocciola